Salve a tutti, oggi facciamo i soldi, è una cosa diversa, parliamo dell'oro, dell'oro come realtà sovrasensibile e anche materiale, è una cosa che avete sollecitato con tante domande, con tante questioni. Attualmente può essere un tema anche molto importante, più del solito, perché? Allora, noi definiamo oro il metallo giallo che troviamo scavando come paperone con le pepite nel crondaiche e compagnia cantante, però l'oro è un precipitato di un'energia non terrestre. È associata appunto all'energia solare, il sole è la stella magnifica che presiede al nostro universo e quindi la fonte prima della luce. Il sole come stella è in comunicazione con tutti i soli del nostro universo ed oltre, cioè con le stelle maggiori. Quindi quello che noi riceviamo come luce è l'effetto di un infinito numero di luci. Il sole come la lente che mettiamo l'ingrandimento sotto il sole che si concentra in un raggio, no? E serve un giochino della bambina, però c'è il bastoncino, le erbette. Questo raggio nel punto in cui si forma, cioè nella lente, nel fuoco della lente, è quello che per noi è il sole. La luce che arriva a noi come percezione visiva è in realtà un atto dello spirito. È una forma in cui lo spirito entra in azione e a livello più denso della manifestazione appare per noi come oro. Quindi con una semplificazione assoluta, evidente, possedere oro significa possedere spirito coagulato. Tutte le civiltà per secoli, millenni, hanno cercato questa luce. Laddove non c'era la possibilità di forirne attraverso l'aspetto dell'oro. Comunque si è cercato di sopperire, fosse anche con un oggetto di bronzo lucidato, ma qualcosa che riflettesse e contenesse la luce. Questo è molto importante. Noi viviamo perché c'è quella luce. Il sole è la fonte del prana. Per esempio, nelle pratiche di tantra, sinduistiche e buddhisti, si usa un mala, un rosario da 111 grani, 108 complessivi o tre che vengono lasciati sul finale, perché 111 è il ciclo delle macchie solari, secondo la loro astrologia, secondo i loro sistemi, che corrispondono a tutti i punti dell'agopuntura del corpo, i 108 punti principali, ai meridiani, ai tre kaldai, come nel sistema taoista, o ai tre corpi di Buddha, secondo il sistema buddista. E quindi ricevere l'energia aurea significa ricevere direttamente lo spirito. Anche nelle visualizzazioni, diciamo, più avanzate di ritantra, si usa largamente la luce aurica. Questa luce aurica è considerata la matrice della scienza alchimica. C'era un testo tanti anni fa della emozione mediterranea dedicata all'alchimia, si chiama appunto l'oro del millesimo mattino, che ne parlava come anche il concetto di oro potabile, come manifestazione della pietra filosofale perfetta, quindi panacea di tutte le malattie. I calici delle chiese di una volta, anzi gli ostensori per essere più esatti, avevano un sole raggiante, no? Al centro si metteva una croce o il IHS, Iesus e così via. Perché il Cristo appunto è un'epifania solare, dal punto di vista esoterico. Quindi è l'accesso diretto allo spirito. Perché, dice quindi, occuparsi della manifestazione visibile, concreta, no? Al di là del valore simbolico così tanto. Perché l'oro fisico è la manifestazione dell'intero processo alchimico operato dal sole verso la terra e è esso stesso pietra filosofale, pietra perfetta, che poi nel procedimento alchimico dovrà essere rinnovato, ricreato, rigenerato dall'artista. Ma di fatto è il precipitato alchimico supremo. viene usato anche nelle medicine alternative, nell'aurum omeopatico piuttosto che nell'oro colloidale, piuttosto che preparati con microsoluzioni aurifere. Tantissimi usi. È legato al cuore, infatti, a tutte le condizioni che possono essere patologiche per il cuore, che è l'organo che rappresenta il sole nel corpo umano. Può essere usato anche nelle tecnologie, nei semiconduttori, in tantissime cose, perché ha delle qualità specifiche. Rappresenta il massimo del potere metallico. È il governatore della sfera dei metalli, dal punto di vista occulto, e quindi conferisce a chi lo possiede le sue qualità mediante un procedimento che non è magico o mistico o comunque dovuto a un'elaborazione umana. Ma, e questo è un principio molto importante dell'oro per osmosi fluidica. Cioè, dall'oro puro, ovviamente non usato per cose profane, insomma, nasce la forza radiante mediante la quale lo spirito coagulato concentrato all'interno dell'oggetto d'oro, può essere un lingotto, può essere una pepita, può essere un monile lavorato, ma già lì la potenza a causa dell'elaborazione delle carature diminuisce, ma comunque conferisce per contatto fluidico spirito a chi lo possiede, a chi lo usa. Dice, ma lo spirito, dice così, sembra quasi un qualcosa che si compra, no? Sì, potete anche rubarlo, non cambia niente. Non è quello, non è l'atto di relazione, è una qualità intrinseca. Gli alchimisti dicevano, chi non possiede l'oro non può fabbricarlo, perché manca di quella luce, di quello spirito, che rendono possibile operare in alchimia reale, non quella inventata di così straparla oggi. Ci sono delle tavole antiche degli alchimisti che dicono, ante laboratorium, oratorium, cioè prima di passare alla parte pratica applicativa dell'alchimia, ci vuole una preparazione spirituale, un oratorio. Bisogna ricevere la luce dello spirito prima di iniziare l'opera alchimica. dentro di noi c'è luce, dentro di noi c'è oro. L'oro esteriore non è sufficiente, per questo anche persone non virtuose, chiamiamole così, possono anche avere oro, ma non ricevono spirito. Lo spirito rimane all'interno perché si muove solo se incontra nella persona che lo possiede la stessa qualità. Ha un valore anche magnetico rispetto allo spirito universale. La sua densità, la sua coagulazione ci permettono di attrarre il simile con maggiore facilità. tutte le tradizioni diciamo storiche e religiose hanno fatto un uso ingessante di oro, ma non perché valeva qualcosa, ma perché aveva questa qualità di trattenere lo spirito universale dentro di sé. Per esempio gli indiani di America si sono rovinati, poveretti, perché per loro l'oro non valeva niente, erano pietra gelalle e non capivano l'ossessione per i bianchi per trovare queste pietre gialle. Questo ha fatto sì che i razziatori si siano insediati anche nelle terre sacre devastandole, facendo delle guerre di esterminio contro le pelle rosse per impadronirsi di quest'oro. Anche per cacciare il bisonte senza bisogno. Ma il bisonte che c'entra colore, perché il bisonte è manito, uccido, devasto, rubo, depredo cercando di impadronirmi di uno spirito, non è la pelliccia del bisonte che vendete ai mercanti. Cioè è tutto connesso. Una delle più potenti danze tradizionali indiane è la danza del sole, quello che avete visto l'uomo chiamato cavallo fa con gli uncini infissi sotto i pettorali, gli uncini fatti con gli artigli di aquila, si fanno con quello, e danza appeso girando intorno al palo finché il sole non tramonta. Quella è una presa di energia aurica. La sun dance è questo. Non troverete mai sciamani tradizionali che hanno dell'oro addosso, perché loro non lavorano con quel principio, lavorano col mondo intermedio, non con l'alto sielo come si dice, no? Mentre invece chi lavora con quel principio è connesso con quella luminosità e con quella qualità. Gli occidentali queste cose ne sapevano benissimo e hanno fatto carne da porco di tutte le civiltà tradizionali indigene per impadronirsi dell'oro, del dorado, i giacimenti e così via. Vanno commesso ogni crimine per potersi impadronire dell'oro. L'oro è l'ultima controvaluta esistente, per questo gli stati adesso con le crisi riempiono i forzini delle banche nazionali con oro. Ci abbiamo nel cinema, no? Il famoso film del 067, Goldfinger, no? E anche un altro, l'uomo della pistola d'oro, no? Sempre ci sono queste cose che come mai vengono citate queste storie strane, no? Un Goldfinger che vuole rubare tutto l'oro di Fort Canox, no? Fa tutte le varie operazioni, poi ovviamente il 007 riesce a stopparlo. Attenzione, nel film, Goldfinger, sa che non può portare via da Fort Canox l'oro, ma vuole fare splendere un'atomica, oggi la chiameremo tattica, per impedire per un tempo indeterminato che qualcuno tocchi quell'oro. Quindi lavora su un principio transtemporale. Fa uccidere una delle sue amiche di 007 dipingendola d'oro. Cioè, il potere di vita e di morte sta nell'oro. Tra l'altro, il suo terribile kill, Rojob, rappresentato da il più grande maestro giapponese delle arti marziali da combattimento reale a contatto, Sensei Masutatsu Oyama, Us, che fa il cattivo, quello che lancia il cappello, che taglia le teste alla gente. Sono film molto strani, c'erano tanti contenuti su quei vecchi film, quelli fatti da Sean Connery, che, presi un pezzetto per volta, qualche dritta, la danno. L'uomo dà una pistola d'oro, a Scaramanga, uccide le sue vittime con questa automatica fatta con oro. L'oro ti dà la vita, l'oro ti dà la morte. Tutti gli imperi si sono accaniti in guerre senza fine per l'oro. Non esisteva il denaro, sì, ma esistevano diamanti, pietre preziosi, argento stesso, che è la concretizzazione dell'energia lunare. Ma l'oro è il re. Le corone dei re sono d'oro. Keter, la corona, è d'oro, perché rappresenta il principio trascendente. Attenzione, a livello cabalistico avete oro al cuore, di Feret, Cristo, eccetera. Ma a un livello superiore, nel sentiero del cammello, c'è Keter, la corona, che è l'antico dei giorni e che è la fonte dell'oro di Feret. Quindi tutta la realizzazione è una scala d'oro. Questo anche nei manoscritti rosacruciani, tante volte si trovano riferimenti di questo tipo, per la parte alchimica. Gli alchimisti vogliono trasformare il piombo, cioè Saturno, in oro, in sole. Ma non fare i pepite, come dicono gli imbecilli o dire che l'alchimia è l'antenata della chimica. Quelli sono i falliti soffiatori che magari hanno fatto cose del genere. Gli alchimisti intendevano altro. Specie quando si parla di oro potabile o di panacea universale, come diceva Paracelso, o a certe linee alchimiche. Quindi avere o non avere oro fa una differenza, non ripeto quantitativamente, ma l'oro che possedete ha un valore spirituale. Se voi ovviamente perseguite un cammino aureo, che vi porta a un'elevazione interiore, perché deve essere, ripeto, in parallelo. Quando c'è stata la crisi economica, quando era il 2007, il 2008, con l'area lì, no? Il botto delle mambrades, eccetera. Sono fioriti, fioriti, i compro oro. Dice, vabbè, c'è la crisi, ma la gente è in difficoltà a vendere dell'oro, eccetera. Compro oro, compro argento, compro oggetti, posso comprare tutto. Perché compro oro? Per togliere l'oro alle persone. Semplice. Meglio che mangiate panni e cipolle che vi vendete l'oro. Forse anche la fede del matrimonio dei vostri genitori, che tra l'altro è benedetta, è oro benedetto. Quello deve stare sull'altare, non sto scherzando. Mussolini, nella sua follia, durante la guerra, chiese l'oro alla patria. La gente toglieva le fedi, le cose d'oro, li portavano a far fondere. Una bestialità indicibile. Tutti vogliono oro, che poi conoscano tante, diciamo, qualità o virtù spirituali o no, è così potente l'oro che richiama la gente. In una chiesa, anche non ricca, diciamo che non c'è molte donazioni, però se sull'altare c'è il tabernacolo d'oro, il calice d'oro, oppure l'ostensore d'oro, tutta l'attenzione della gente è andare su quell'oro al momento dell'elevazione, le consacrazioni e quant'altro. Sarà l'oro a richiamare il principio occulto che sta nelle persone, il principio di luce, non le parole del celebrante o altro. E ha un magnete per l'energia cosmica che occorre, per esempio, per celebrare i rituali più potenti. C'ha il fasto delle chiese della riforma, oro da tutte le parti, di sopra, di sotto, e che è? No, perché quella è come fare una batteria gigante. Senza oro non si fa. Kremers, quando commenta il desiderio di molti discepoli di ottenere ricchezze, no, e quant'altro, chiamando geni, formule, lui dice, no, non avete capito niente. Voi otterrete quello che vi tocca di queste cose solo nella misura in cui voi diventerete geni auriferi. Cioè farete di voi stessi un genio aurifero, un collega di quelle che andate a chiamare. Se voi non vi riempite di luce, non vi aurificate, è inutile fare rituali di prosperità. Nelle tradizioni orientali abbiamo rituali per la ricchezza, per la prosperità di tanti tipi, nei tantra specialmente, per ieri, eccetera, ma tutti implicano un oggetto d'oro. In questi giorni in Italia si stanno facendo, in alcuni centri buddhisti, per esempio, i Bumpa, della ricchezza, i Bumpa sono dei vasi particolari che si tengono poi in casa, ci sono tanti tipi, ci hanno da mettere dentro gli stupani, i templi, comunque ognuno può avere un suo vaso della prosperità, che però, signori miei, è inutile fare il rito del Bumpa se voi siete dei poveri, perché vi arriverà più povertà, ve lo dico. Per riempire il vaso ci vogliono cose preziose, oltre che cibi e cose varie. Se non ci avete un soldo per far cantare un cieco, detta proprio, no, vulgarmente, e fate il Bumpa per funzionare a rovescio, perché l'accrescimento che può essere invocato attraverso l'oro passa per la funzione gioviale e Giove aumenta quel che c'è, se ci avete sfiga, vi viene una sfiga da paura, se ci avete fortuna, vi viene una fortuna da paura. Tra l'altro l'ha fatto, attenzione, in relazione all'oroscopo natale, se seguite la tradizione occidentale, in relazione all'astrologia orientale, se seguite il Jyotish indiano, l'astrologia tibetano-cinese, perché la vostra energia, la base, che deve essere aurificata e dilatata, e poi eventualmente impiegata in un rito. Se volete la prosperità, non l'oro, attenti, la prosperità, potete usare anche altri elementi, massimamente l'acqua, piuttosto che la terra, il cibo, si possono fare rituali offerti di ogni tipo. Ma se volete l'elevazione spirituale, perché il vero scopo di fare il Bumpa è crescere spiritualmente, no, andare a vincere le lotterie, è un'altra cosa che non è ben capita, dovete mettere il vostro oro nel Bumpa. Senza quell'oro è un'offerta elementare. Arrivano gli spiriti, i naga, i raksha e cose, e dice, ah grazie, mamma mia. Ci vuole la motivazione altruistica, di ottenere la purità per il bene di tutti gli esseri, tante cose. Allora quel Bumpa diventa un magnete spirituale, se no diventano offerte elementare. Lo tenete in casa, non avete un posto pulito, con tutti i drappi e cose, il Bumpa si inquina. L'energia positiva si consume vasta, non diventa attrattiva. E il Bumpa è semplicemente poi un supporto, il vaso, per la vostra pratica. Infatti si mette quando si fanno quelle che si chiamano in Orla, le divinità della ricchezza, sempre nel sistema buddista tibetano. Ma qual è la pietra cintamani, la pietra magica che esaudisce tutti i desideri? È la mente illuminata. Quindi sono succedani, sono supporti, ma se non c'è una pratica spirituale, autentica, non servono a niente. Infatti, un giro, se andate in Cina, da Taiwan, cioè vedete le cerimonie di Bumpa con centinaia, centinaia di vasi pieni di tutto, con drappi, cose, sì, da una benedizione. Ok? Ma nessuno di questi, per assicuro, diventerà mai miliardario o farà chissà che. Anzi, molte volte diventano più avidi, più avari. Quindi funziona implodendo l'energia. Non si possono manipolare gli dèi, scordatevelo, ma neanche i geni. I geni funzionano perché vedono un'aura luminosa e potente. Sanno che servendo il mago, l'operatore, loro si eleveranno. Cioè non è che vengono a darvi una mano perché diceva sei tanto carino, c'hai bisogno di aiuto. No, no. Cioè tu sei un figlio dell'arte, sei un alchimista, sei un mago, sei un teorgo, sei un yogi, quello che ti pare. La tua aura è così potente che io, servendo te, risalirò la scala evolutiva e mi innalzerò. Angelo, Lume, Eone, per quello vi aiutano, se no, non lo potete scordare, anzi, vi schifano proprio. Veramente. Tutte le indicazioni per la purificazione personale, i rituali, le cose che si fanno nelle catene occidentali antiche, ma anche, ripeto, anche nel taoismo, nel buddismo, nel hinduismo tantrico, eccetera, servono a questo. Diceva Yudusevola, la yoga della potenza, un dio risponde solo a un altro dio. degli umani non gliene frega niente a nessuno. Noi siamo degli esseri fetenti, schifosi, puzzolenti, cioè repellenti, non so, per un essere che sta sui piani alti. Se tu invece ti fai delle belle docce, ti rimetti a posto, metti il vestito buono, tra virgolette, ah, questo è uno che ci si può parlare. Nell'ebraismo è la stessa cosa, le purificazioni cabalistiche sono incessanti, solo per pregare, neanche per chiedere, solo per pregare. Quindi, questa è la cosa. Quello significa produrre luminosità, produrre oro. senza di questo non serve niente. Sì, se la vedete, chiaramente siete ricchi, state bene, non c'è problema, ma quell'oro diventa una scultura per la propria tomba, se non è usato per sostenere la ricerca spirituale, aiutare chi ha bisogno, eccetera, eccetera. più aiutate in oro, come si dice, in magia, in stato di oro, e più l'universo spirituale vi risponde. Se vi piace, potete leggere le orazioni agli elementari di Eliphas Levi, un vecchio classico, quella degli ignomi, che custodiscono queste potenze, come i draghi, non tanti midi, e qualcosina si può capire di come funziona veramente l'oro, perché sono loro a scavare miniere, non noi, con le nostre macchine. Zakaria Stigthin scrisse nei suoi libri che gli Annunaki, questi abitanti del Nibiru, vennero sulla terra, attenzione, perché nella loro atmosfera non c'era più oro, a scavare le miniere in Sudafrica, per ottenere oro, perché sennò stavano morendo. Ecco, l'oro potabile, l'oro spirituale, eccetera. Tra le tre centinaia di cose di questo tipo, l'importante è fabbricare il proprio oro interiore, cioè coltivare la luce interna, perché quella lo chiama, con il resto non serve a niente, la gente che va in giro con i pendolini a cercare tesori, anche perché poi trova anche la sede di un tesoro, della miniera, c'è un problema che c'è già il padrone, e di solito non è di buon carattere, tant'è vero che nel Medioevo i Vescovi, quando veniva a partire una miniera, anche non di oro, una miniera anche normale, celebravano l'esorcismo maggiore, perché si apriva la porta tra gli inferi e la terra. L'anello piscatorio è d'oro, l'anello episcopale generalmente è d'argento con l'ametista, perché respinge il male, per quello c'è l'argento e l'ametista. L'oro invece rappresenta il governo, quindi, se avete l'oro tenetevelo stretto, ma soprattutto fatelo crescere dentro di voi. Ok? Un saluto. All'avanti. Buongiorno, ho una domanda per Giorgio Rossi. Si parlava dell'oro, molto interessante il discorso di espansione del campo aurico, l'oro interiore e l'oro esteriore, ma al di là dei processi alchemici, indossare proprio gli ori può essere quindi una forma di protezione o comunque di supporto in questo momento? Grazie. Buonasera, Libri. No, questa, poi c'è un'altra, sempre su. Un amuleto, nello specifico, unire, per esempio, una catena, un amuleto in oro, c'è una forma particolare che potrebbe essere migliore, non so, la classica croce o qualche altra cosa? ok. Allora, quest'oro fa gore a tutti, vero? È molto interessante, sì, diciamo che il dato essenziale è che alla quantità di oro materiale deve fare da corrispondivo una quantità di oro interiore, altrimenti non funziona, perché? Perché l'oro è luce solare coagulata, luce solare coagulata, che è la manifestazione visibile più alta che c'è nel nostro universo. la battaglia per l'oro è una battaglia per controllare attraverso la materia questa energia luminosa potentissima che è nata dal sole, che poi è la fonte del prana, come ho detto altre volte. Amuleti, sì, medaglioni, quello che volete, ma ripeto, tecnicamente se non sono preparati apposta magicamente non servono a niente. Questo video dietro le quinte continua nei contenuti per abbonati. Abbonarsi è un modo per aiutare la libreria, grazie del tuo sostegno. Grazie di esserti iscritto al canale e grazie agli abbonati che sostengono il nostro lavoro. Abbonarsi è un modo per vedere tanti video speciali in più e per aiutare la libreria. E da oggi con il nuovo pulsante grazie potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi. Cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta grazie.